buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video oggi vi mostro come applicare questi che sono i water decal spero di averlo detto correttamente io sulle mie unghie ho già passato questo colore che vi mostro subito che è il 349 della Plinio ed è meraviglioso e come ho fatto in quest'altra mano andremo applicare i due disegnini ok allora vado a opacizzare le due unghie perché avevo già messo il lucido è una cosa che puoi fare anche dopo se sei di fretta fai tintanita e puoi riprendere il lavoro un altro giorno ok ok opacizzate con il buffer per bene senza togliere il colore quindi molto delicatamente a questo punto abbiamo questi due unghie così andiamo a bagnare la parte dietro con dell'acqua finché non si stacca il il disegnino in questo modo vedete che si toglie ecco qua io lo metto qui passo una leggera un leggero strato di costruttore sull'unghia in modo da attaccare l'adesiva e vado ad applicare il mio disegnino in questo modo adesso lo sposto e schiaccio delicatamente ok quando vi soddisfa la posizione adesso faccio molto velocemente anche l'altro quindi passata di costruttore bagniamo l'adesivo e strisciamo e l'adesivo delicatamente ok e applichiamo ok semplicemente così ok e abbiamo messo i nostri due disegnini sulle unghie ora andiamo a coprire il tutto con il nostro costruttore fate una passata molto leggera perché potrebbe spostarsi il disegnino ok facciamo anche di qua sensor quindi ok 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 e mettiamo a catalizzare per 120 secondi ecco qua non vi ho detto che ho usato lo sky blue il costruttore si è un po' consumata l'etichetta una volta tirati fuori si passa il lucido io uso questo qui dell'apline il top of glass ecco qua grazie a tutti e mettiamo a catalizzare per cento e venti secondi una volta finito andiamo a sgrassare io uso questo sgrassatore e passiamo ok infine mettiamo l'olio cuticole io uso questo qui di sabelles adesso ed ecco qua spero che questo video vi sia stato utile se è così lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video e noi ci vediamo al prossimo video ciao